Ciao, sono Andrea Ponzoni e sono un insegnante di informatica musicale presso la Scuola di Musica del Garda. In particolare per quanto riguarda i corsi di musica moderna, Music Academy, mi occupo di tecnologia, informatica musicale, storia della computer music, dall'Atari ai moderni software di gestione e di registrazione e quindi insieme potremo vedere insomma come fare degli arrangiamenti, come lavorare con la computer music in maniera creativa sia per le produzioni in studio che per le produzioni anche di tracce che verranno poi utilizzate dal vivo. Quindi vi aspetto corsi di musica moderna per Music Academy e qualsiasi informazione la potete trovare nel sito della Scuola di Musica del Garda, nelle pagine social oppure nei link che troverete qua sotto. Vi aspetto, ciao a tutti!